L'incidente sulla provinciale 460 nel comune di Filetto nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre intorno alle 17. Il conducente di uno scooter Majestic 150, forse per evitare di tamponare la forchiesta che viaggiava innanzi a lui, o forse per un malore, si è tenuto sulla destra finendo sulla ghiaia e perso il controllo del mezzo e caduto a terra. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo Canavese e i carabinieri di Rivarolo. L'uomo a soccorso è stato trasportato all'ospedale di Pornier per controlli, illesi gli occupanti della vettura. Grazie per la visione!